Salve e bentornati a tutti. Nel contributo di quest'oggi parleremo di una delle più grandi scrittrici della letteratura brasiliana del Novecento e soprattutto di un suo testo, di un suo romanzo breve, in realtà più che un romanzo potremmo definire così quasi un poema in prosa, che lei la scrittrice pubblicò, scrisse e pubblicò nel 1973 che si intitola Acqua Viva, l'autrice di cui parleremo oggi è Clarice Lispector. La Lispector era nata in Ucraina nel 1920, dovette scappare subito dopo la sua nascita la famiglia era di origine ebraica, chiaramente essendo che fanno anche durante il periodo della guerra civile in Russia, subito dopo la rivoluzione d'ottobre. La giovanissima appunto dovette lasciare il suo paese, non vi ritornerà più chiaramente, infatti lei stessa disse più volte che non si considerava propriamente Ucraina, anzi era stata portata via in braccio, diceva appunto dal suo paese. Infatti poi la famiglia si andrà a stabilire in Brasile, come tante anche di quelle comunità anche europee che fuggiranno proprio non soltanto dal comunismo ma anche molte dal nazismo, andranno nel Sud America, molte in Argentina, il Brasile chiaramente rappresentava ancora da questo punto di vista per molti europei il nuovo mondo. La Lispector infatti acquisirà poi sulla cittadinanza brasiliana una nazionalità e infatti poi diventerà brasiliana a tutti gli effetti, lei morirà poi come ho detto in Brasile nel 1977 all'età di 57 anni. La Lispector tra l'altro è stata come ho detto una delle grandi autoscrittrici del Novecento, di diritto tra le più sicuramente forse anche la più grande assieme a Yorg Amato. La Lispector definire chiaramente il suo stile è molto difficile, molto complicato perché nel Novecento in mente ogni autore diciamo così in qualche modo è un'isola a sé stante, nel senso che infatti ogni grande autore crea un po' la sua letteratura. Per quanto in realtà la Lispector se proprio vogliamo farla rientrare all'interno di una determinata corrente letteraria possiamo forse inserirla in quella del surrealismo, per quanto poi lei in realtà fosse nata in seguito perché come abbiamo visto è nata nel 20, il surrealismo prende forma proprio negli anni 20, lei poi come ho detto a partire dal dopoguerra comincerà in realtà a scriverne, a partire dopo la seconda guerra mondiale ovviamente, diversi tra i suoi romanzi sono chiaramente diventati dei classici della letteratura del Novecento, pensiamo non lo so, vicino al cuore selvaggio ad esempio, di cui magari un giorno faremo un breve commento, cercheremo di fare. Diciamo che la sua poetica può ricordare quella di altri grandi poeti, scrittori e anche scrittrici soprattutto del Novecento, penso ad una Nice Nin che è bellissimo il suo romanzo, il suo breve racconto in realtà non è proprio un romanzo che si intitola La casa dell'incesto, che fu scritto se non sbaglio agli inizi degli anni 30. La prosa tra l'altro di Spector era molto amata da Borges, era molto amata anche da diversi grandi autori del Novecento ovviamente, di cui l'ala ovviamente anche del Sud dell'America Latina. Appartiene come abbiamo detto quindi ad una prosa che chiaramente non può essere considerata la tipica prosa di una prosa narrativa o descrittiva perché i suoi testi sono spesso, vivono anche di questo continuo flusso di coscienza, di questa voce interiore dello scrittore e dell'autore. Infatti questo la può accomunare in un certo senso anche a una Virginia Woolf, penso alla Signora Dalloway anche a questi grandi romanzi, penso anche a tutta la grande scuola avvianamente inglese. Per quanto poi in realtà, come ho detto, la di Spector abbia poi un suo stile così particolare, anche così unico, che è difficile da riuscire in qualche modo a comparare con altri autori. Bisogna leggere i testi e basta. Questa è anche la grandezza di questa autrice che in qualche modo anche si erge, come ho detto, come una montagna, come un continente a sé stante. Si entra e si esplora. E l'aperenza infatti di questo testo di Acquaviva, che fu scritto, come abbiamo visto, nel 73, pubblicato nello stesso anno, qualche anno prima della sua morte, perché come ho visto la scrittrice, poi a metà degli anni 60 avrà un grave incidente che la costringerà praticamente, che minerà, diciamo così, le sue condizioni di salute, praticamente fino alla sua dipartita. È un testo in realtà molto interessante, molto importante, perché intanto, come ho detto, non si può neanche forse definire un romanzo, sì, un romanzo breve, potremmo dire così, sono 95 pagine, ma la cosa interessante della Lispector è che qui lei distrugge completamente quelle che sono le regole fondamentali del romanzo, nel senso che qui non ci sono dialoghi, ad esempio, non ci sono assolutamente dialoghi, non c'è una trama, non c'è una storia, questo quindi togliamocelo completamente dalla testa. È un continuo, quindi, flusso di coscienza. Non è altro che la stessa scrittrice, che la Lispector stessa, che parla praticamente ad un lettore, si rivolge ad un ipotetico, ad un destinatario, che poi, non si che, probabilmente, appunto, siamo noi lettori che stiamo leggendo. Ed è interessante proprio perché, partendo da questa idea iniziale, da un tema, diciamo così, da un po' come se fosse una composizione musicale, c'è un tema di base che poi viene sviluppato, un po' come se fosse una fuga bacchiana, diciamo così, una fuga che deve essere... è il tipico procedimento della sonata musica, della sonata per pianoforte, o anche, appunto, sì, del tema con variazione, dove appunto si dà un tema che si ripete e poi successivamente comincia a variare questo tema. Ma lo ritroviamo, questo tipo let motive, appunto, questo tema centrale di questo scorrere. Non è un caso che il testo si intitoli proprio Acquaviva. Perché è un testo così bello, anche importante? Intanto perché ha una caratteristica che è unica, forse, pochissimi libri hanno questa capacità, cioè che noi possiamo aprire questo testo a qualunque pagina, appunto possiamo aprirlo a pagina 30, a pagina 52, a pagina 41, e, come dire, possiamo entrare all'interno di questo testo. Quindi non richiede, diciamo così, di una lettura sistemata, come possiamo immaginarlo, cioè di seguire una lettura cronologica, ma comunque una lettura lineare. La scrittura della rispetto è assolutamente antilineare, è assolutamente astratta, ecco, diciamo così, proprio anche perché poi lei, tra l'altro, era anche una... ecco, può avere molto in comune, ad esempio, con la Leonora Carrington, questa grande scrittrice poi che aveva vissuto in Messico per gran parte della sua vita. infatti sono anche coetanei, non a caso, vivono nello stesso periodo, questo stile, come ho detto, che non è... ma che poi riunisce quel surrealismo e lo mescola poi con la psicanalisi, aggiungendo molto, chiaramente, anche quella tipica prosa interiore che, come abbiamo visto, tante grandi scrittrici, soprattutto donne, come nel Novecento, saranno, come dire, delle maestre da questo punto di vista. Infatti ha anche uno stile molto pittorico, infatti può ricordare, in un certo senso, anche la pittura di Gandischi. Infatti, noi, come ho detto, apriamo una pagina ed entriamo già nel testo, ed è difficilissimo riuscire a creare questo, perché è facile quando si fa un testo del genere, con questo punto, col flusso di coscienza, unendo quindi anche... si può credere anche di riuscire, dove si scrivono, diciamo così, quello tipo scrittura automatica, ecco, che l'ha provato anche Chizza, anche grandi autori, come ho detto, poeti, anche del primo Novecento, si può credere, appunto, di scrivere le prime cose che ci vengono in mente, come un'associazione di idee. In realtà, facendo questo, se non stiamo molto attenti, rischia di crearsi una gran confusione, cioè dove appunto non ci si capisce più nulla. Cioè si entra dentro una grande... si rischia di creare non soltanto una confusione, ma anche di creare un tessuto slegato. L'importanza, infatti, di questi testi del genere è proprio quello di riuscire a creare un testo che, sì, apparentemente è come un filo che si va a dipanare in diverse... come un bago da seta, ecco, che noi possiamo sciogliere e si va a dipanare in diverse possibilità. Però dobbiamo sempre trovare in qualche modo un tema dominante, un'atmosfera, ecco, che si respira in tutte queste pagine. C'è questa atmosfera che accomuna l'intero testo. Per quanto poi ovviamente la Lispector comincia a parlare poi di cose completamente diverse, comincia ad analizzare e come veramente la voce di una donna che si trasforma in tutto quello che tocca, un po' come l'acqua, l'acqua dove noi buttiamo, non lo so, dell'acqua sul pavimento. Quest'acqua inizierà, poi queste gocce cominceranno a penetrare, non lo so, ad espandersi questa macchia d'acqua e andare, non lo so, sulle frange del tappeto e diventano tappeto. Poi si va a espandere, per esempio, sulle gocce raggiungono, non lo so, appunto il pavimento e comincia a descrivere quindi anche la superficie fredda, anche la superficie ruvida di questo pavimento. La cosa interessante è che la Lispector si trasforma in questo, in tutto quello che lei riscrive, in tutto quello che lei sta raccontando. È proprio una voce che riesce perfettamente anche ad entrare in se stessa, perché infatti uno dei temi fondamentali che ritroviamo che è presente nel test, è proprio questa volontà di descrivere l'attimo, di descrivere questo attimo che è sempre mutevole, che non riusciamo mai a fermare, non riusciamo mai a raccogliere anche. E quindi c'è questa bellissima anche ricerca che la Lispector riesce anche ad unire con il suo stile, con la sua capacità anche, i testi, ad esempio, buddhisti, tra volte i testi del Veda, rimescolare quindi un'altra volta anche la musica, mescolarlo quindi anche tutto questo con l'arte e creare quindi da questo punto di vista una scrittura, un'opera che alla fine riesce sempre a stimolarci. È un testo, come ho detto, che si potrebbe leggere anche due, tre, quattro volte e trovare sempre un aspetto nuovo, un aspetto che non abbiamo colto. Anche perché tra l'altro ogni singola frase di questo testo, se la prendiamo isolatamente, se la andiamo a prendere, ad analizzarla, potrebbe vivere scollegata da questo testo. E questo è qualcosa di estremamente difficile dal libro. Cioè noi generalmente, come ho detto, quando scriviamo un testo, dobbiamo necessariamente ogni frase collegata con l'altra, ogni periodo, diciamo così, anche grammaticale, ma anche ogni pensiero, è in qualche modo parte dell'opera. Invece la cosa interessante, l'aspetto che la Lispector riesce invece a creare in questo testo, è proprio il fatto che noi, come ho detto, lo apriamo in qualunque pagina e qualunque verso possiamo prenderlo e farci una riflessione. In questo ricorda infatti che abbiamo parlato le primavere di Vangaleb e di Desdica. Non è un caso, infatti, questa era, come ho detto, una tecnica, chiamiamola così, uno stile che molti letterari a cavallo tra gli anni 60 e 70 cercavano anche di, avevano provato, diciamo così, ad esprimere nelle loro opere. Penso anche a un Witold Kubrovic, che è stato uno dei grandi letterati, uno dei più grandi del Novecento, appartenente alla letteratura polacca, ma ce ne sono stati tantissimi in realtà, anche Ottavio Pazze, di cui abbiamo parlato, cerchiamo magari di citare autori di cui già abbiamo in qualche modo discusso. E infatti qui proprio la Lispector riesce infatti a creare un testo che è eternamente vivo. Cioè questo testo, come ho detto, può essere appunto uscito nel 73, ma poteva essere uscito nel 40 o nel 50, ed è una letteratura infatti che non invecchia mai, che questo è impersonale anche, nel senso che la scrittrice, sì, parla di se stessa in teoria, ma riesce a farlo in maniera così velata in realtà, in maniera così sottile, in maniera così anche elegante, con questo stile suo tutto particolare, poi magari leggeremo alcuni passaggi, che in qualche modo riesce perfettamente a farci entrare in questo suo scorrere, in questa acqua che scorre continuamente, continuamente in questa pozza ci entriamo noi tutti, ci bagniamo di questo liquido e poi ne riusciamo fuori, e poi ci rimmergiamo un'altra volta. E' interessante, qui adesso leggiamo magari qualche passo, potrei veramente prendere anche dall'inizio. Ho un po' di paura, paura di lasciarmi andare perché il prossimo istante è l'ignoto. Il prossimo istante lo creo io o si crea da sé? Lo creiamo insieme con il respiro e con una disinvoltura da torero nell'arena. Interessante proprio per questa sua capacità di variare nel tema, di fare questo tema con variazione. Come ho detto questo, se lo fa uno scribacchino, rischia di diventare dopo un po' di arenarsi. E' come accartorciarsi, è come una foglia che si, all'inizio ti riesce magari questa volontà di... Ma poi alla fine diventa, come ho detto, un tessuto slegato, è come cercare, non lo so, di cuscire un maione con diversi pezzi di lana, con diversi pezzi di stoffa, alla fine facciamo una buffonata. In realtà qui proprio la capacità dell'Ali Spector di partire, come ho detto, da un seme è quasi una tecnica, io direi quasi betoveniana da un certo punto di vista. Si parte da un'idea che è veramente minima e poi quest'idea, questo vermicello, diciamo così, si va a sviluppare e diventa un serpente gigantesco. Infatti poi successivamente poi la pagina continua e aggiunge qui e voglio catturare il presente che per la sua stessa natura mi ha interdetto. Il presente mi sfugge, l'attimo svanisce, l'attimo sono io, sempre nell'adesso. Anche qui una scrittura cristallina, una scrittura che va dall'essenza, che va dal punto, che non cerchi quindi nelle parole, cerchi di limarle anche le parole, di trovare sempre il termine esatto. E come ho detto, oggi chiaramente anche questo abbiamo perso, anche perché ho detto la letteratura, è sempre stata anche questa ricerca dei grandi autori di reinventarsi. Oggi noi siamo un'epoca che non si reinventa più niente, ma anzi cerca sempre di fare le stesse cose, di scrivere il solito romanzetto. Anche questo perché siamo ormai in un'epoca priva di idee, prive proprio di quella volontà anche di provare a creare, a mescolare anche, a creare qualcosa di nuovo, di più bello, di diverso anche. Infatti è interessante qui quando lei dice meraviglioso scandalo, nasco, tengo gli occhi chiusi, sono pura incoscienza, hanno già tagliato il cordone umbilicale, sono libera nell'universo, non penso ma sento l'it, con gli occhi chiusi cerco ciechiamente il seno, voglio latte grasso, nessuno mi ha insegnato a volere, ma voglio già. E resto sdraiata con gli occhi aperti a guardare il soffitto, dentro è oscurità, un io che pulsa già si forma, ci sono girasoli, c'è grano alto, io è. Al che riga dopo aggiunge, non sono ancora pronta a parlare come lui o lei, rappresento quella cosa, quella cosa è legge universale, nascita e morte, nascita, morte, nascita e come il respiro del mondo. Come ho detto io con questo, direi che possiamo anche concludere questo breve contributo sulla Lispertro, una delle più grandi, mi ha detto, scrittrici del Novecento, come ho detto, che è Colana, una scrittrice straordinaria, che riusciva perfettamente, come abbiamo visto qui, a mescolare tematiche così difficili, anche una certa sapienza, anche una certa, una conoscenza perfetta anche di quello che si vuole intendere. Noi spesso, come ho detto oggi, intendiamo anche la letteratura, quando si cerca anche di creare questa forma di letteratura stratta, chiamiamola così, rischia di diventare, come ho detto, quando non c'è un'idea su quello che si vuole dire, spesso purtroppo si crede anche di andare all'effetto, di andare a voler per forza colpire con belle frasi che poi non significano niente, l'importanza è sempre quella di veicolare un messaggio, un messaggio che poi, chiaramente, il bravo lettore deve saper cogliere, questo è evidente, cioè se noi leggiamo un testo del genere per aspettarci che tutto sia spiegabile, che tutto sia così spiegato razionalmente, è evidente che stiamo qui, è meglio che leggiamo altro, è ovvio, anche perché purtroppo noi anche oggi siamo abituati a un'epoca che non vuole più pensare questi testi, ma è tutta anche la grande arte, anche il grande cinema che ci invitano a pensare, perché ad esempio, autori come Buñuel, pensiamo, sono i più grandi registi del Novecento, oggi magari, per pochi magari, è un regista difficile, ostico, perché è una società che non vuole più pensare, che non vuole più riflettere, che non vuole mettersi lì a discutere, a ragionare sul niente, si deve parlare solo di idiozia, e chiaramente questo è un testo difficile, ma chiaramente, se uno vuole anche avvicinarsi alla grande letteratura del Novecento, la grande prosa anche, questa prosa d'arte, come vediamo, una prosa poetica, così elegante, così bella, anche ricca di dettagli, un'altra volta, ma dettagli che non sono barocchi, non è una prosa artefatta, è una prosa assolutamente costruita attraverso uno studio, attraverso quindi anche una capacità di sintesi, come detto, sono 95 pagine, ma ogni pagina è così premiante, veramente si potrebbe analizzare, commentarla per ore, ogni pagina, proprio perché è ricco di idee, ma idee che vengono espresse in maniera perfetta, in una misura, quindi che, in uno stile, poi alla fine, che poi è l'essenza anche della grande letteratura, in uno stile che riesce perfettamente a non essere stucchevole, a non essere noioso, a non essere, come detto, pedante, o comunque, a non voler aggiungere troppo, in questa è proprio la perfetta arte della sintesi. La grande letteratura ha anche capacità di sintesi, ha anche capacità in questo di saper in qualche modo definire, partire quindi da un concetto base per poi andare a svilupparlo, un po' come ho detto Vocanzi, come un tema musicale, infatti non è un caso che lei poi successivamente citerà anche Stravinsky, citerà Mozart, proprio in questo testo. Anche l'influenza di questa grande artista che infatti rispetto era anche una grande traduttrice, stata anche una grande pittrice, che unisce infatti proprio nella sua arte, in questa sua prosa, anche tutti gli stili artistici che lei chiaramente ha anche le diverse arti a cui lei si è dedicata durante la sua vita. E qui troviamo quindi una donna straordinaria, come sempre, una grandissima scrittrice che andrebbe, non dico riscoperta, perché comunque è una scrittrice che ancora oggi viene abbastanza pubblicata, i suoi testi sono reperipidi, ma che andrebbe letta comunque con maggiore attenzione, anche per capire come si dovrebbe fare anche un certo tipo di letteratura che chiaramente vuole essere anche, diciamo così, sperimentale, ma la sperimentazione la si può fare soltanto quando si ha realmente qualche cosa da dire. Non ci si può improvvisare scienziati o comunque grandi artisti senza aver letto nulla. È chiaro che riuscire a creare questo, riuscire a scrivere anche certi testi, questo dovrebbe essere, è sottinteso ovviamente, ma un testo del genere è frutto anche di una grande meditazione e di un grande studio. Ed è per questo che quindi mi rispetto, rimane assolutamente una delle più grandi scrittrici del Novecento e acqua viva è proprio come quest'acqua sempre fresca, sempre limpida che noi possiamo bere, dissetarci e poi tornare magari a distanza di qualche anno e ci riuscirà a dissetare, a ridisetare un'altra volta perché sono come tutti i grandi testi della grande letteratura, non muoiono mai e restano sempre lì a ricordarci che la grande letteratura come tutta la grande arte è immortale. Grazie.